Musica 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 Più d'osto che andare in osteria è sicuramente migliore questa qua, è chiaro, quando si riesce a piogliare qualche pesce dei 5 kg, in su c'è una certa tensione adrenalina che ti mette in corpo perché non sai mai se se vince lui o vinci tu per tirarlo su certe volte vince lui si stacca in altre occasioni lo portiamo a casa e lo mangiamo grazie